La crisi colpisce anche la giornata nazionale della colletta alimentare. In Abruzzo ieri sono state donate 200 tonnellate di alimenti, raccolti da oltre 3.000 volontari in circa 200 punti vendita. Nel 2011 le tonnellate raccolte furono 212, alle quali si aggiunsero le 2.000 raccolte durante tutto l'anno dal Banco dell'Abruzzo presso la grande distribuzione. Si tratta di eccedenze alimentari, vale a dire prodotti perfettamente commestibili ma non più commercializzabili, ritirati dal Banco per sfamare migliaia di persone assistite da enti convenzionati. Quest'anno si è dunque registrata una leggera flessione del 5,6%. A Pescara e Provincia sono state raccolte 53,8 tonnellate, a Teramo 58,63, a Chieti 56,7 e all'Aquila 30,81. I 2.000 volontari con la pettorina gialla hanno invitato coloro che si sono recati a fare la spesa a donare olio, alimenti per l'infanzia, legumi, carne, torni in scatola, pelati e sughi. Nei prossimi giorni inizierà la distribuzione dei prodotti agli oltre 33.685 poveri d'Abruzzo assistiti dal Banco Alimentare, mediante 195 enti convenzionati. Ringraziamo di cuore tutti, dice Luigi Nigliato, presidente del Banco Alimentare dell'Abruzzo, volontari, donatori e coloro che hanno partecipato con la solita grande passione e dedizione, vedendo nella colletta una possibilità di continuare a costruire e condividere il bisogno di chi vive nella difficoltà, soprattutto in un momento difficile come quello attuale. Grazie a tutti.